Salve ragazzi e carmici del web, in questo momento mi trovo in un volo interno indonesiano, sto partendo dal Borneo per andare a Jakarta. L'aereo è moderno, tenuto bene, il luogo dove mi trovavo io era molto statiscente, l'aeroporto è saltato due volte alla corrente, sto parlando della località Puntianac, è molto caratteristica, una città molto bassa di livello, costruita sulla fognatura essenzialmente. Però devo dire che il volo, l'aeroplano che sto prendendo è rassicurante, hanno appena dato l'annuncio, proprio prima che iniziasse a fare il clip che nel caso in cui ti beccano sostanze stupefacenti a bordo, subirai, adesso ve lo traduco dall'inglese, la massima penalità oppure la morte. Per cui ci sono anche queste minacce di essere condannato a morte, chiaramente noi dobbiamo rispettare le usanze degli altri paesi, per cui cercare di comportarsi bene, anche se questi avvisi che intimoriscono la gente possono essere discutibili, questo è giusto rispettare il paese in cui si visita, per cui visto che poi io viaggiando ho visto tanti italiani che non si comportano bene, veramente rischiano. Con questo videoclip voglio anche lanciare l'appello di non portare nulla di particolare, se venite in Indonesia non fate gli stupidi, non prese, molto ospitale, gentilissimo. Oggi veramente per arrivare in aeroporto ho preso un moto taxi, una moto, uno che mi ha portato in moto e persona gentilissima. Alla fine gli ho anche dato di più di quello che mi chiedeva perché non potevo... Ok ragazzi, state attenti se viaggiate, non portate cose illegali, viaggiate nel Borneo e ci salutiamo con questa bellissima immagine. Ora ragazzi, alla prossima e ve la do io l'Indonesia. Ciao a tutti!